5.000 visitatori nei soli primi 10 giorni di aprile al Museo Archeologico Nazionale Marta di Taranto è l'epilogo di una serie di circostanze che hanno portato al risultato da record. La prima domenica del mese con ingresso gratuito, il ritorno in città del complesso scultore Orfeo e le Sirene presentato nei giorni scorsi alla presenza del Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano e ancora le aperture straordinarie del giovedì e venerdì santo. 1.600 persone hanno scelto il Marta tra Pasqua e Pasquetta, tante le prenotazioni già da diverso tempo. Un importante risultato per il direttore regionale musei di Puglia Luca Mercuri, delegato dal direttore generale musei Massimo San alla guida del Museo di Taranto, che va condiviso con tutti i lavoratori impegnati in questi giorni di festa a garantire non solo le aperture ma anche interessanti percorsi guidati a tutti i piani espositivi del Marta, alle sale delle perti iconici e alla pinacoteca della collezione Ricciardi. Molto apprezzata la novità del museo Orfeo e le Sirene, il cui ritorno è frutto di un'importante operazione congiunta dei carabinieri del Comando Tutela del Patrimonio Culturale.